Matteo Baldassari, generale di Tramontana, stasera siamo alla festa della vittoria, tanto attesa, possiamo dire così? La vittoria tanto agognata e che abbiamo voluto festeggiare in una data particolare perché siamo all'apertura dei 450 anni del Gioco del Dio. È stato festeggiato, se non sbaglio, anche durante le celebrazioni del giorno di Santa Antonia Abate, quindi la festa cade proprio ad hoc. Esatto, non abbiamo scelto un momento a caso, ma l'abbiamo voluta porre all'inizio dell'anno, che è il 2018, che celebra i 450 anni del Gioco, quindi è una ricorrenza importantissima. Non abbiamo trovato modo migliore che celebrare la nostra festa proprio con questo traguardo importante, augurando al Gioco buona salute e impegnandoci per lui. Quindi per dovere, diciamo che è una festa di parte della vittoria, però è una festa in generale per il Gioco. Un omaggio al Gioco e a tutte le persone che ne fanno parte e che si impegnano per mandarlo avanti. Un augurio al Gioco del Ponte in questo suo compleanno? Di crescere sempre di più, di radicarsi sempre di più, soprattutto tra i giovani e che nelle generazioni future veramente il territorio, i quartieri tornino ad essere il culto del Gioco del Dio. Grazie e in bocca al lupo allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.